Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Walter Benjamin, morto suicida nel 1940, è un filosofo ebreo tedesco presentato come un profeta del pensiero postmoderno. In una delle sue opere egli si interroga sul motivo per cui gli insorti parigini del 1830, pur senza essersi accordati prima, sparavano furiosamente agli orologi pubblici. Lo stesso accadde nella Comune di Parigi del 1871 e per Benjamin capire cosa rappresentavano quegli orologi per i rivoltosi di Parigi significava comprendere l'essenza stessa della rivolta. Nella sua quindicesima tesi sul concetto della storia egli scrive, cito, che la coscienza di far saltare il continuum della storia è propria delle classi rivoluzionarie nell'attimo dell'azione. La grande rivoluzione ha introdotto un nuovo calendario, il giorno di inizio del calendario funge da acceleratore storico e in fondo è sempre lo stesso giorno che ritorna in forma di giorni festivi che sono giorni della memoria. I calendari quindi non contano i giorni come le ore, sono monumenti di una coscienza storica di cui da cento anni a questa parte in Europa sembrano essersi perse le tracce. Già nella rivoluzione di luglio si verificò un incidente in cui a pieno diritto si affermava questa coscienza. La sera del primo giorno di battaglia in diversi luoghi di Parigi, contemporaneamente e indipendentemente l'uno dall'altro, si sparò agli orologi delle torri. Un testimonio oculare che deve forse la sua divinazione alla rima scrisse allora «Chi l'avrebbe creduto che fossero così arrabbiati contro il tempo, novelli Giosuè ai piedi di ogni torre tiravano sui quadranti per fermare il giorno». Ecco, per Benjamin quegli orologi erano un simbolo di potere e di oppressione. I capitalisti erano i padroni del tempo che presentavano alle classi sfruttate sotto forma di progresso sociale. Ma in realtà c'è un solo padrone del tempo ed è Dio, creatore e signore dell'universo. Era lui il vero obiettivo dei rivoluzionari. Essi sparavano non contro il tempo ma contro l'eternità. Infatti l'impronta di Dio nell'universo non è presente solo in ogni pulviscolo creato che sussiste stabilmente nell'essere, ma in ogni momento creato che fluisce nel divenire. Ogni realtà finita, compreso il tempo, riceve il suo essere dall'atto creatore e conservatore di Dio. Non c'è attimo nel tempo così come non esiste punto nello spazio che sia privo di tutta la pienezza dell'azione divina che inonda l'universo. Sta all'uomo riconoscere o rifiutare questa presenza divina nel momento presente. Il momento presente, osserva il padre de Cossard, è sempre pieno di infiniti tesori, contiene più di quanto voi possiate accogliere. Il dovere di ogni istante, sotto apparenze spesso modeste, aggiunge il padre Reginald Garigou Lagrange, contiene l'espressione della volontà di Dio su di noi e sulla nostra vita individuale. Il padre Garigou Lagrange spiega come non bisogna limitarsi a vedere il momento presente nella linea orizzontale del tempo tra un passato che non è più e un avvenire che non è ancora. Viviamo soprattutto, scrive, sulla linea verticale che lo collega all'unico istante dell'immobile eternità. Accada quel che accada, diciamo, in questo momento Dio è e vuole attirarmi a Lui. Da qui l'infinita ricchezza del momento presente. Però tra le innumerevoli serie di momenti presenti che misurano la nostra vita, ce n'è uno che è cruciale e definitivo, il momento della nostra morte, l'istante in cui finisce il tempo e inizia l'eternità. Tutta la nostra vita non è altro che preparazione a questo terribile momento che non è solo quello della morte, ma è anche quello del giudizio divino. La santificazione del momento presente ha come fine di farci santi davanti a Dio nell'unico istante che veramente conta della nostra vita. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org